Questo programma è presentato da Grazie a tutti Grazie a tutti La donna è un riguardo molto difficile per guardarla bene e veloce Però giustamente dobbiamo guardarla bene e veloce Veloce, velocissimo La donna deve essere un riguardo di corpo splendido Se non riguarda il corpo splendido vuol dire che non si può avere La donna deve essere naturale, non truccata Non truccata Deve essere naturale e proprio stile Proprio integratore Non deve avere quelle passeggiate Tipo Un nacamento Tipo un nacamento Come grande fratello Grande fratello Ti piace il grande fratello? Ti piace il piantonella? Nessuno Una grande spezzatura Quindi È solo un gioco Una parola è troppa È una parola è troppa E due sono poche Quindi Una piccola canzoncina Ce la devi cantare Dai Anche perché da tanto canzoncina Dai Si avessi fatto nate Quello che è fatto a me Stomma ti avessi eccise E vuoi sapere perché Quando ha detto Totò Antonio De Curtisi Con queste canzoni Ha detto Si avessi fatto nate Quello che è fatto a me Stomma ti avessi eccise E vuoi sapere perché Perché in coppa sta terra Femmela come a te Però Io dico una cosa La donna Non si deve toccare Deve solo guardare No Non si deve alzare le mani Sia la donna E se i bambini Io sono contrario E ve l'ho detto 50.000 volte La donna deve essere stile Pulita E tutto naturale Io ringrazio a tutti Bene Grazie Maurizio Ringrazio a tutto Lo staff di Italia Mia Grazie E un prossimo evento Per un'altra settimana Un altro tema Un altro tema molto interessante Ciao Maurizio Grazie Qual è la vera bellezza della donna? Secondo me La vera bellezza della donna Non si può dire Però Sei un porto La donna La donna Ha tante sfumature Penso che una donna L'apprezzi nel tempo Col tempo e per tempo Cioè vale a dire Ci abbiamo un cammino Che parte dall'adolescenza Sino arrivare all'età Della caduta Diciamo così Non la caduta dei giganti Ma del gigante E quindi la donna La vedi sotto sfumature Prima magari sei attratto Dall'espressione fisica Dalla fisiologia Poi invece apprezzi Personalmente Apprezzo la movenza Di una donna Lo stile Il modo di camminare Il modo di vestirsi Il perlage La classe Che una donna Perché una donna Può essere bellissima Lo charme Lo charme Bravissimo Ma se alla fine della storia In questa bellezza Viene fuori Una scurilità Nel modo di essere Nel modo di fare La donna Anche se immensa È zero Riporto zero Bravo Anche io la faccio Quindi Ricordatevi sempre Di cercare Di andare Lì Col pensiero Non con altre cose Ho depravato Ciao Ciao Grazie Ciao Forza reggina Forza reggina Sempre E in tuo culo A condivare male Per te Ciao Ringraziamo Il nostro Televia Il nostro Camera Facciamo un applauso A Televia Ma che sacchio Mi sposerà Perché Mi sa Come te Nessuno Sa Fare Per te Ma adesso Che io Doveste un abito Nel di bel Corpetto Effetto Tattoo Disegno In pizzo Anche su Con profonda Scollatura Davanti E dietro Avvio Applausi E poi Che voglio Di lì Sei da Papà Luda Fai Mio Terriere E D'avronza Luda Non ti sposerò perché ti piace di te E sei mezza ma tanto più come C'è Danilo Fellicchieri Non ti sposerò perché ti piace di te Ma come sei il sposato Non ti sposerò perché Non mi chiedi mai di un giorno che sarà il mio sposato Lei è Alessia Procopio, Alessia Questo è un abitore lenti verde Corpetto a pizza e nuori Rotare in organza Balline con volà Applausi Grazie Grazie Signora secondo lei qual è la vera bellezza della donna? Secondo lei? Ce ne sono tante di bellezza Quella che attrae, che colpisce e che è importante Non lo so penso il sorriso, penso gli occhi Non lo so Dipende Il carattere oppure la bellezza estetica Anche il carattere Anche il carattere Prima di tutto Davvero un bel carattere La dolcezza ecco La dolcezza Quindi oggi le donne ce l'hanno queste cose oppure? Sì diciamo di sì dai Cosa trattate signora? Io sono la rappresentante del bimbi L'incaricata del bimbi Come vanno le cose? La gente risponde? Diciamo di sì C'è un po' di crisi Un po' di crisi Buon lavoro signora Grazie La bellezza della donna secondo lei? Secondo me la bellezza della donna Ci possono essere tante bellezze Non è che solo la bellezza fisica Ma proprio la vera bellezza Quella che dovrebbe colpire Che dovrebbe essere importante agli occhi degli uomini Magari di chi passa Beh il carattere Secondo me la dolcezza di una donna Il carattere Tutte le cose Non lo saprei dire in questo momento Sono un po' Vabbè però il carattere è già una cosa importante Perché la bellezza svanisce Ma il carattere resta per sempre giusto? Certo Per cui più importante fosse il carattere che la bellezza esterna o no? Sì sì Sicuramente sì Ci sono tante cose che colpiscono in una donna La sua dolcezza La sua simpatia Tante cose In questo momento non mi vengono pure Ma secondo lei l'arma di seduzione più importante qual è? Il sorriso O il carattere O il corpo Magari C'è gente anche che va sul corpo Vabbè ci sono quelli che si fermano sul corpo Però secondo me sbagliano Sbagliano Il sorriso è già una bella cosa Il sorriso è un bel accessorio diciamo Sicuramente sì Col bimbi come va signora? Siamo qua a rappresentare il bimbi che è un ottimo prodotto Però sta andando così così Non benissimo Vabbè piano 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 dai Grazie e buon lavoro signora Grazie Arrivederci Signora cosa la trovate più della donna? Niente 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 Come mai? No Peppe Beppe Beppe l'abbiamo fatta Beppe l'abbiamo fatta No 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 niente No noi siamo per la privacy L'aspetto esteriore e il carattere o? No noi siamo per la privacy No no Dove la possibilità Giorgia Rejo Un aplauso Accompagniamo questa meraviglia con le dolce notti dell'Ave Maria in Cristo. Ave 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 Maria in Cristo. La signorina, lo sai, abito principesto che si può dire che è un concetto pizzo con organza e seta. Roberto, nascondi tutto così. La signorina, lo sai, abito principi. La bellezza della donna, secondo voi, che cosa deve essere bella una donna? L'aspetto esteriore, carattere? No, bellezza interiore. Interiore, quella che c'è dentro. Esatto. Perché quella non svanisce mai, invece quella esteriore se ne va un giorno e finirà tutto. Esatto. Quindi bellezza interiore. Bellezza interiore, bontà d'animo. Bravo. Ma ce ne sono donne così belle oggi interiormente, signora, secondo lei? O la donna oggi è tutta un apparire? L'importante è apparire nella donna oggi. Trucchi, vestiti, capelli sempre in ordine? No, ci sono quelli che ancora sono con i piedi per terra e ci sono quelli invece che... Ma sono pochi quelli che hanno i piedi per terra, signora. L'altro che sono con i piedi sulle nuvole. Sulle nuvole. Va bene, me ne devo andare. Signora Immacolata, dopo una settimana d'assenza qual è la vera bellezza della donna, signora? Buongiorno a tutte, prima di tutto a tutti quelli che ci conoscono e ci vedono. La bellezza è tutto. Essere una bella ragazza, avere il viso bello, gli occhi bellissimi, avere tanta sincerità, tanta onestà e vai a testa alta che è una cosa più bella che c'è. Perché io mi sento ad essere pure io, molto carina, onesta e sincera. E vedo tante persone che sono come noi, bravi. L'onestà è la cosa migliore. Perché essere bugiardi o prima o poi si vedrà. Sì, sì, sì. C'è tanta gente che si vedono, però è una cosa bellissima. L'onestà, la sincerità, il carattere. Il carattere sarebbe, guarda, quando una risponde con un carattere sbagliato, guarda, per me quella non è donna speciale. Allora, diciamo, la bellezza interiore. Interiore, c'è il cuore buono, l'animo buono, tutto e di più. Tutto e di più. O poi adesso che è arrivata la primavera, sempre più belle, vediamo delle persone belle, vestite primaverile, belle, con certe vestite carine, un'eleganza speciale. Si vede troppo bella. Allora, tutto qua, i saluti, signora? E io voglio salutare Chiara. E poi mai non sei venuta più Chiara? E lavoravo con qualche problema, ti è andato a Firenze prima. Ma magari, magari sta lavorando, magari. È stata a Firenze pure dalla mamma. Ah, sì, bravissimo. Chiara, ti vogliamo più presto da noi, al mio fianco. Tantissimo, ti aspettiamo con tanta affetta e tanta simpatia. Ti auguriamo tante belle cose. Noi siamo tristi se tu non vieni con noi. Siamo molto tristi. Noi tu sai che ti vogliamo un mondo di bene. E viva Chiara. Ciao, un bacio. Ti saluta pure Gina, Chiara. Pure a te, Geni, Chiara. Ti saluta, Geni. Grazie. Ti saluta pure a te. Grazie. Gina, ti manda tante cose belle. Dice che sei una persona bravissima e squisitissima. Grazie, signora. Sì, sì. Ok, tutto qua, signora. Sì, saluto io, Gina, vegli amore, da Roma, suo fratello, Pina da Bovalino con suo figlio, suo figlio Antonio, i miei figli, i miei nuori, i miei cari nipotini. Saluto mio marito con tanto affetto e tanta sempatia. E oggi facciamo 38 anni di matrimonio. Auguri, signora. Grazie. Auguri. E sarà una bella festa. Auguri allora. Auguri. Grazie. Sì, sì, 38 anni speciali. Auguri a questa festa. Di amore, di salute, di pace e che ci siamo voluti sempre bene. Bene, auguri a questa festa. E sempre ci vorremmo. Certo, certo. Sempre. Auguri a questa splendida coppia che si chiama Immagolata e Carmelo. Grazie. Cento anni di felicità. Grazie. E io, guarda, Geni, veramente non ti aspettavo oggi da me. L'ha mandata la Madonnina. Io ho una Madonnina speciale che mi vuole un mondo di bene e sei venuto tu. Abbiamo fatto il video. Ok, meglio così. Un arrivederci a presto, oggi è venerdì. Saluto tutti gli amici che mi conoscono. Dall'Ocrisiderno, Bovalino, tutta la Calabria, tutta Torino, Roma e tutta l'Europantera. E viva l'Italia. Sempre l'Italia al migliore. Ciao a tutti. Ciao. Mi dimenticavo di chiedere una cosa per te. Non ti vedo tanto allegro io a te. Cosa ti è successo a questi giorni? Qualche problema, signora. Che problema hai? Qualche problemina, insomma. Non ti vedo tanto su come altre volte. Sì. Ma mi hai detto che hai perso pure il telefonino. Sì, il telefonino, immaginare altre cose, anche il telefonino. Pure tante cose. Si risolveranno al meglio, stai tranquillo. Qualche problema che non manca mai. Si risolveranno al meglio, dai. Su con la vita, Genì. Su con la vita, Genì. Grazie. Pure a me mi hanno capito tante di quelle cose una volta. Io sono rimasta molto più bella di prima. Grazie, signora. Ciao, ciao. Tante belle cose. Ciao, signora, alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti Il primo posto, la prima serata, signori, missi gocce di stelle, we are the champions, Chiodo! Un applauso! We are the champions, we are the champions! Ragazzi, vi voglio dire una cosa... Fermi! No, che c'è me! Questo programma è presentato da... Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!